Benvenuti a questo nuovo video del team progetto VitaSana. Oggi parleremo di ossido nitrico nello sport, un alleato davvero prezioso per chi pratica fitness, attività sportiva o bodybuilding. L'ossido nitrico è un gas prodotto naturalmente dall'endotelio dei nostri vasi sanguigni. È un vasodilatatore che rilassa e dilata i vasi agendo sulla loro muscolatura liscia, ottimizzando così la prestazione sportiva sia in sport di forza che in quelli di resistenza. Contribuisce a evitare la formazione di coaguli nei vasi sanguigni. Aiuta a smaltire tossine e acido lattico dai muscoli. I suoi effetti garantiscono un flusso ematico corretto anche in presenza di un ematocrito alto, che può aiutare anche in soggetti schemici, con angina o situazioni analoghe. Ed è importantissimo che la produzione di ossido nitrico sia regolare e costante. Purtroppo però con l'avanzare dell'età la produzione fisiologica si riduce ed innescando il progressivo processo di stenosi dei vasi. Ma il sistema più efficace e positivo consiste nell'integrare. Tali aminoacidi sono la L-arginina, la L-citrullina e la L-taurina. L'utilizzo di integratori che stimolano la produzione di ossido nitrico è quindi una scelta molto sensata per l'atleta e lo sportivo. Le sue prestazioni, la fase anabolica e lo smaltimento saranno ottimizzate in modo naturale e senza doping. E tutto il suo sistema cardiocircolatorio ne trarrà benefici sul lungo termine. Troviamo quindi il giusto compromesso fra prestazioni sportive e salvaguardia del benessere. Grazie per la vostra attenzione e, come sempre, arrivederci al prossimo video del Progetto Vita Sana Team.